basket marchigiano in lutto per la scomparsa di andrea sciarrini precipita da un palazzo muore 32enne pesarese il saluto di pesaro al nuovo arcivesco o sandro salvucci il festival percorsi riaccende riflettori sulla violenza di genere a pesaro il meglio del basket giovanile con la next gen cap una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv riparti una nuova settimana la prima del mese di maggio in compagnia dell'informazione di rossini news telegiornale di oggi lunedì 2 maggio che apriamo con un lutto che ha funestato questo weekend andrea sciarrini cestista e allenatore conosciuto in tutta la pallacanestro regionale è morto ad appena 40 anni poche ore dopo essere rientrato dalla partita del suo marotta basket il servizio un malore senza scampo nella serata del 30 aprile al rientro dalla partita di basket se ne è andato così ad appena 40 anni andrea sciarrini giocatore e allenatore di pallacanestro conosciutissimo in tutto l'ambiente cestistico regionale dalla sua marotta a fano da pesaro a senigallia sciarrini è morto dopo un malore improvviso nel bagno di casa e dopo vani tentativi di rianimazione il tutto a poche ore dalla partita di promozione del suo marotta basket contro l'urbania un dramma che ha scosso il primo maggio dei tantissimi che lo conoscevano soprattutto nella sua marotta ma anche a pesaro dove andrea era cresciuto nelle giovanili della vl sciarrini lascia la moglie laria e due figlie da ieri la pagina facebook della federazione fip marche listata lutto con un ciao sciarro postata a immagine di copertina social in cui lo stesso presidente federale davide paolini si è detto attonito dalla tragica notizia perché la comunità del basket marchigiano ha perso un'anima di pallacanestro giocata allenata e organizzata ieri si è osservato un minuto di silenzio in tutte le partite di basket regionale compreso l'appuntamento serale di serie a disputato fra la vl venezia sarà così anche per le gare del prossimo weekend tremendamente scossa marotta con la proloco che in segno di cordoglio anche annullato tutti gli eventi di intrattenimento dell'ultima giornata della 73esima sagra dei garagoi appuntamento di spicco del primo maggio marottese e c'è stato un altro fatto di cronaca che ha scosso il primo maggio pesarese davide codecasa 32 anni è morto nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio precipitato dall'ultimo piano di un condominio del quartiere montegranaro in via filangeri un'abitazione appartenente alla nonna di cui era erede non si esclude l'ipotesi del suicidio per il giovane che lavorava come pizzaiolo alla nota pizzeria toni delle cinque torri secondo le indagini dei carabinieri il giovane poche ore prima del volo da 12 metri era incappato in un incidente con la sua auto abbattendo un segnale stradale e ieri rossini tv vi ha tenuto compagnia per diverse ore di diretta con la emozionante cerimonia di insediamento del nuovo arcivescovo di pesaro sandro salvucci rivediamo i principali momenti salienti di questa partecipata funzione religiosa e le prime parole di salvucci da arcivescovo di pesaro è stato un primo maggio speciale per tutta la comunità cattolica pesarese proprio nel giorno dedicato ai lavoratori è cominciato il ministero religioso di sandro salvucci come nuovo arcivescovo metropolita di pesaro è cominciato dopo 18 anni di carica ecclesiastica ricoperta da monsignor piero coccia che ieri ha ufficiato in duomo la cerimonia dell'ordinazione e l'inizio del ministero pastorale per l'imposizione delle mani alla presenza dei vescovi ordinanti rocco pennacchio e armando trasarti una cerimonia partecipata a cui hanno preso parte migliaia di fedeli fra l'interno e l'esterno della cattedrale e fra piazza del popolo dove salvucci si è poi spostato in corteo presentato alla città assieme al sindaco ricci una cerimonia seguita anche nella diretta televisiva di rossini tv che ha mostrato in cattedrale le prime parole da arcivescovo di salvucci alla presenza di tutte le principali autorità civili militari e religiose oggi è stata una giornata speciale perché ho vissuto concretamente il distacco per così dire no dalla dalla mia terra dove sono vissuto tutta la vita e dove ho svolto il mio servizio il mio ministero sacerdotale in 29 anni ma so di venire qui in una famiglia che non è diversa ma è la stessa famiglia la stessa famiglia composta da persone che vivono in cristo che vivono la loro fede la vogliono testimoniare desiderano testimoniarla e quindi sono qui per condividere con voi la passione per il vangelo l'amore per la chiesa l'amore per la comunità la passione per l'uomo che cosa vi posso dire sento che quello che stiamo vivendo è una esperienza di chiesa di fede che percorre il tempo e fino e corre fino all'eternità parole di un vescovo che prima di tutto si sente parroco e che ha dichiarato la prosecuzione a pesaro nella sua missione pastorale dopo 29 anni trascorsi nella comunità fermana di monte granaro sandro salvucci ha scelto il motto maiores caritas la più grande di tutte e la carità come stemma che verrà fisso all'ingresso di tutte le chiese della diocesi e quindi io chiedo al signore di donarmi la udaccia il coraggio di annunciare il vangelo ora in mezzo a voi chiesa di pesaro che sento già casa mia non me ne abbiano i monte granare si i fermani ma ora per me la mia casa la mia famiglia siete voi il 5 di maggio parte la quarta edizione del festival percorsi che torna finalmente in presenza per analizzare a livello sociologico e culturale il tema della violenza di genere ne abbiamo parlato con l'organizzatrice per percorso donna laura martufi percorsi giunge la sua quarta edizione e per questa occasione si allarga su tutta la provincia di pesaro urbino coinvolti comuni di gabice pesaro fano e urbino si parte il 5 maggio a urbino al teatro raffaello sanzio avremo ospite gabriella greson la rock star della fisica con il suo spettacolo sei donne che hanno cambiato il mondo alle 21 appuntamento per partire insieme verso un festival che con i suoi percorsi con il ricalcolo dei percorsi che dopo due anni di pandemia ci portano di nuovo sui palchi sulle strade e negli angoli anche più lontani della nostra provincia si arriva di nuovo a pesaro il giorno successivo venerdì 6 maggio per i tre appuntamenti della seconda giornata del festival ente olivieri con lo strazio della giovane donna in cui si parlerà di una canzone che leopardi scrisse nei primi del novecento che parla di femminicidi ieri come oggi che cosa è cambiato sul tema della violenza sulle donne per poi proseguire nel pomeriggio con una conferenza patrocinato l'alto patrocinio del parlamento europeo che si terrà presso la sala della provincia di pesaro urbino la sala pierangeli successivamente per la sera il documentario al cinema astra corpi in vendita a cura di lucia ferrati prodotto da percorso donna con la collaborazione della provincia di pesaro urbino e parleremo di corpo della donna e di prostituzione un tema importantissimo che va a toccare poi quelli che sono anche progetti che in futuro percorso donna farà insieme alle scuole della nostro territorio il terzo giorno di festival sabato 7 maggio si parte con un percorso di benessere tutto rivolto alla cittadinanza in collaborazione con le associazioni del nostro territorio quindi appuntamento alle 8 e 30 alla cortile della biblioteca san giovanni per poi spostarci nelle piazze della nostra città l'appuntamento poi alle 11 e 30 con le pari opportunità che mancano nello sport si parlerà di professionismo nello sport di gender pay gap e di differenze di genere per poi proseguire il pomeriggio alla chiesa della maddalena di nuovo per parlare del corpo della donna dello slut shaming e della cultura dello stupro poi la sera ci spostiamo per alle ore 19 inaugurare presso la biblioteca oliveriana la mostra dei conseguenzi di stefania prendi che racconta lo sguardo di chi resta dopo i femminicidi una mostra importantissima che tocca il tema per noi primario della violenza maschile sulle donne quindi di quella che è la punta dell'iceberg ovvero il femminicidio che tutti vediamo e riconosciamo ma forse non sappiamo quanto a fondo tocca bambini padri madri sorelle fratelli chi resta dopo una donna che viene ammazzata per mano dell'uomo che diceva di amarla chiudiamo il nostro festival domenica 8 maggio si parte a fano con la scrittrice autrice serena ballista insieme alla editrice monica martinelli di 7 9 per parlare di simone de bouvoir e del crescere attiviste per cambiare il corso della corrente quindi di nuovo i temi del femminismo e i temi del cambiamento della rivoluzione culturale che ci contraddistingue poi nel pomeriggio con le mamme di merda andiamo a decostruire gli stereotipi di genere sul tema della maternità si concluderà il nostro festival con una festa con sei giunta destinazione dopo il ricalcolo dei percorsi presso il gra con il concerto dei diavoli l'acqua santa e quindi vi aspettiamo per chiudere in bellezza questa quarta edizione del festival la differenza sul tema della violenza di genere possiamo farla tutti e tutte come cittadini e come cittadine discutendo di questo tema confrontandoci e cercando di comprendere avvicinandoci alla violenza di genere in particolare la violenza maschile sulle donne anche attraverso lo sport la cultura il cinema e l'arte pesaro ospiterà il secondo campo di addestramento italiano delle unità cinofile da soccorso su macere rafforzando una sinergia con croce rossa italiana e al contempo rigenerando un'area verde di proprietà comunale l'assessore riccardo pozzi ha infatti ufficializzato l'assegnazione in comodato d'uso al comitato di pesaro della croce rossa di un'area di 7.700 metri quadrati nelle quartiere torraccia nelle vicinanze di via fuori assi che permetterà a pesaro di diventare un punto di riferimento per la cinofilia da soccorso del paese e urbino ha ospitato il campionato nazionale delle lingue che alla sua dodicesima edizione ha visto in gara 16.000 concorrenti dalle scuole italiane per poi chiudersi nel weekend al collegio raffaello di urbino con una emozionante premiazione ai vincitori assoluti che hanno prevalso fra i 40 finalisti va tra i vari premi anche l'esenzione totale per l'iscrizione al primo anno di università al corso di lingue di urbino a vincere sono stati la trestina rebecca rosa donati per la lingua inglese la trevigiana greta giacobini per la lingua francese il fanese lorenzo d'agostino per la lingua tedesca e la mantovana irene ferri per la lingua spagnola ed ora parliamo di teatro perché si avvia alla conclusione la stagione in abbonamento del teatro sanzio promossa dal comune di urbino e dall'amat enzo iacchetti e vittoria belvedere saranno in scena proprio domani 3 maggio con bloccati dalla neve una commedia brillante di peter quilter per la regia di enrico maria lamanna che ha come tema la convivenza tra persone diverse sia per carattere sia per il modo di concepire il mondo e la vita in una situazione al limite come quella di essere bloccati appunto dalla neve lo spettacolo è stato scritto durante il primo lockdown del 2020 da peter quilter autore delle commedie di successo glorious e end of the rainbow e dopo il precedente rinvio per positività al covi 19 da domani martedì 3 maggio a domenica 8 maggio emilio solfrizzi sarà il protagonista al teatro sperimentale di pesero del malato immaginario di molier spettacolo diretto dal regista guglielmo ferro e proposto nella stagione promossa da amat sabato 7 maggio alle ore 17 al teatro sperimentale torna anche oltre la scena un incontro con la compagnia per arricchire la proposta culturale del teatro e della città e intanto si aggiunge un altro tassello al progetto pesero città cardioprotetta che nei giorni scorsi ha accolto l'installazione del 57esimo defibrillatore automatico esterno in via lombardia è stato dunque installato in un luogo strategico che accoglie all'alba l'asta del pesce e per poi ospitare il mercato ortoflutticolo ed essere affiancato alla sede della protezione civile di pesero un luogo dunque molto frequentato e ora ancor più al sicuro grazie alla collaborazione delle strade di luca e del comitato di pesero di croce rossa italiana il meglio delle basket giovanile sarà di casa alla vitri frigo arena dal 5 al 7 di maggio pesero ospiterà infatti la fase a gironi della next gen cup mettendo a confronto le migliori 16 formazioni under 19 d'italia dopo le final eight di basket svoltesi a febbraio pesero si prepara ad ospitare anche la next gen cup per il mese di maggio il torneo che si disputerà alla vitri frigo arena coinvolgerà dal 5 al 7 maggio le formazioni under 19 dei club di serie a la next gen è il nostro campionato under 19 e come lega basket oramai da quattro stagioni abbiamo voluto creare proprio per dare risalto ai settori giovanili delle nostre squadre si sfideranno 16 compagini in quattro gironi da quattro squadre 5 6 e 7 saranno 24 partite per poi qualificare le quattro squadre vincitrici dei quattro gironi alla final four final four che si disputeranno si disputeranno probabilmente il weekend successivo stiamo definendo la location sarà annunciata nei prossimi giorni ma per noi è già un grandissimo orgoglio dopo due anni di grande sacrificio per il settore giovanile riproporre una competizione come questa e noi puntiamo sia al settore assoluto con i nostri atleti di vertice ma anche al settore giovanile infatti mi auguro che la città possa rispondere e venire attivare a tutti tutti i ragazzi tutte le squadre tutte 16 le compagini stiamo parlando di biglietti di livello economico abbordabile per tutti sono 5 euro per una giornata dove si può seguire si possono seguire otto partite o 10 euro per tutta la manifestazione quindi poter seguire 24 partite è una grande opportunità che la città con nexgen i giovani migliori saranno qua e chi li vorrà vedere giocare dovrà venire a pesaro quindi una grande occasione di sport ma anche una grande occasione di visibilità per la nostra città del resto il rapporto con la lega un rapporto profondo ha portato due volte la final eight a pesaro e vogliamo continuare in questa direzione così come vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto con la federazione di basket e siamo molto orgogliosi che il presidente petrucci abbia accolto tra le tantissime richieste che gli sono arrivate da tutta italia la proposta di pesaro di rafforzare ciò che diventerà casa well cioè l'impianto intorno alla piscina di via togliatti facendolo diventare anche un centro un punto federale per il basso e incrociamo le dita perché se davvero questo progetto verrà approvato dalla dal ministero dello sport potremo fare un ulteriore passo in avanti anche in termini di impianti e questo è sta alla base di qualsiasi investimento sul futuro e sui giovani e a margine della conferenza della next gen cap che avete appena visto il sindaco ricci annunciato anche che la federazione italiana pallacanestro ha scelto proprio pesaro per partecipare al bando delle pnr per lo sport del valore di 4 milioni di euro la fip avrebbe infatti candidato il progetto di completamento dell'area sportiva di villa san martino dove dal 15 aprile scorso la victoria libertas è diventata gestore della piscina di via togliatti che diventerà casa well ovvero un luogo dedicato allo sport con centri di fisioterapia e preparazione atletica nelle prossime settimane si saprà il risultato del bando che se dovesse essere positivo abbinerebbe a casa well anche il centro federale del basket italiano e completiamo questa ricca carrellata di notizie inerenti alla pallacanestro andando a vedere i risultati sportivi del weekend del basket ma non solo la vuela infatti perso con venezia ma sono invece arrivate vittorie gratificanti per l'ital service nel calcio 5 per la fiorini pesaro rugby e per gli angels nel football americano l'ultima gara casalinga della regular season della vl premia l'umana reier venezia che con una prestazione di spessore alla meglio sulla generosità dei pesaresi che cadono la vitrifrigo arena col punteggio di 75 a 85 un più 10 per i veneti che si materializza in prossimità dell'intervallo e che la reier di fatto riesce ad amministrare fino alla sirena è una sconfitta che lascia comunque aperta la possibilità dei playoff per pesaro che può giocarsi l'accesso nelle migliori otto fra una settimana nella prossima trasferta di napoli non l'abbiamo giocata al massimo abbiamo cercato di far fronte a una serata dove i nostri avversari hanno avuto la capacità di imporre la propria fisicità la propria struttura questa è una squadra abituata arrivare a questi momenti della stagione con alle spalle un vissuto importante di una stagione di euro cup che li ha portati ai playoff che adesso intravedono la possibilità di entrare nella post season in una posizione che li può candidare tranquillamente insieme a brescia ad essere una legittima outsider e stasera lo abbiamo visto no abbiamo misurato quanto fosse difficile per noi scardinare la loro fisicità la loro stazza in una serata poi dove nemmeno le percentuali ci hanno sostenuto e nemmeno la qualità delle nostre scelte ci ha sostenute però adesso si tratta di ottenere ancora una settimana di sacrificio di impegno perché ci vogliamo giocare fino in fondo le chance che abbiamo per centrare la post season ci aspetta una partita durissima perché a napoli troveremo napoli galvanizzata nel successo di stasera e la salvezza conseguita è una squadra che già noi soffrimmo nella partita di andata a figurarsi con la giunta di di gudaitis che che tipo di avversario troveremo e che tipo di ostacolo ci sarà da superare però facendo tesoro anche di quanto visto stasera io spero che siamo capaci ancora una volta e dimostrare che si possa alzare un po la sticella e chiedere qualcosa in più al nostro gioco perché se realmente abbiamo l'ambizione di cercare di centrare certi traguardi e l'ambizione di competere a questi livelli serve migliorare il nostro il nostro rendimento e quindi ci sono sette sette giorni per dimostrare che possiamo essere a napoli una squadra migliore di quanto visto stasera il weekend di sport ha detto anche di una straripante tal service che venerdì sera ha strapazzato al palafiera la simbio spetrarca vincendo lo scontro al vertice coi padovani per 5 a 0 ha referto un autorete un gol di toni dandel e la tripletta di uno scatenato bolo a completare il 5 a 0 alle spalle dell'ital service non molla la caccia all'olimpus roma coi pesaresi che cercheranno di blindare la vetta già nel turno infrasettimanale di domani martedì 3 maggio in casa del polistena una partita che sarà trasmessa in diretta alle 20 su rossini tv si chiude con una vittoria il campionato di serie a della fiorini pesero rugby che passa a napoli 37 a 13 e chiude la stagione con un ottimo quarto posto nel girone da una palla ovale all'altra nel football americano i ranocchi angels non falliscono la missione playoff a imola serviva una vittoria per prendersi almeno il terzo posto che dà accesso alla post season per la promozione in a2 e i ragazzi di campbell trovano il colpo di reni per risollevare la stagione con una convincente 22 a 0 e con lo sport chiudiamo questa nostra edizione delle telegiornale rossini news prima di salutarci vediamo qualche appuntamento a cominciare dalla serata odierna quella di lunedì 2 maggio che comincia alle 20 e 15 mostrandovi la presentazione di start up weekend questo format di progetto scolastico che è stato presentato alla riviera banca di rimini e che si terrà proprio a rimini dal 13 al 15 di maggio a seguire alle 21 e 20 vi mostreremo invece la presentazione dell'itinerario della bellezza 2022 sempre più ricca la proposta promozionale di commercio marche nord perché per quello che riguarda l'edizione 2022 è stata appunto presentata a villa imperiale di pesaro e poi alle 21 e 40 il nostro speciale dedicato alla inaugurazione dello spazio giovani base tavuglia che si è tenuto questo weekend proprio nelle comune tavugliese appuntamento alle 21 e 40 e poi ancora lo sport domani un'altra diretta quella con le partite dell'ital service che sarà in trasferta sul campo della cormar polistena dunque subito dopo il nostro telegiornale alle 20 puntuale inizia l'ital service con questa partita di campionato davvero importante per mantenere la vetta della squadra pesarese questa partita dell'ital service fa però slittare di una settimana dovrete ancora pazientare un'altra settimana per vedere la nuova edizione di qua la zampa la nuova stagione del programma dedicato ai nostri amici animali domestici con giacomo jack lucchetti e la nostra giuliette che andrà in onda tutti i martedì si comincia dunque il 10 di maggio alle 21 e 20 con la seconda stagione di qua la zampa e dunque tanti appuntamenti questa sera ma anche in questo mese di maggio più in generale che potrete seguire su rossini tv per questa sera invece è davvero tutto ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi una buona serata con i nostri programmi